Pronto, c'è Homer! Homer chi? Homer... sessuale. Aspetta, aspetta un momento, adesso vedo. Chi c'è Homer sessuale? Oh, forza, forza, su, forza, uno di voi deve essere Homer sessuale! Brutto teppista! Se ti metto le mani addosso affondi i miei denti nella tua guancia e poi ti strappo la faccia!